Per essere socio fondatore è una bella responsabilità, significa credere in un progetto e sposarlo al 100%. A due anni di distanza dalla nascita di Alice, lei è sempre convinto della sua scelta? Assolutamente sì, soprattutto per le grandi doti di Guido Grimaldi che è presidente e guida questa formidabile associazione. Guido Grimaldi sicuramente è un capo carismatico, ma all'interno dell'associazione lei ritiene che tutti i suoi componenti siano ascoltati con uguale misura? Assolutamente sì, è un'associazione che tutela tutte le aziende fondatrici e associate nella sua globalità, dalle aziende che fanno trasporti marittimi all'azienda che fanno trasporti su gomma, passando per tutta la filiera intermodale e logistica delle aziende di produzione. È molto difficile mettere a sistema tanti operatori, perché il gruppo si è esteso, sono oltre 1300 aziende, ognuno con interessi a volte convergenti e a volte contrastanti. Quale ritiene sia la formula del successo di Alice? Le varie tipologie di aziende si integrano tra di loro, quindi il trasporto su gomma, che può praticamente andare su ferro, quindi trasporto ferroviario, al trasporto navale collegando velocemente e in modo sostenibile e ecologico le merci e le varie aziende in tutta Europa. E ritiene che ci sia un settore che vada maggiormente sviluppato all'interno dei progetti, dei macro obiettivi che Alice si pone? Sicuramente l'intermodalità serve a sostenere ovviamente un abbattimento, quindi l'intermodalità in primis. E anche la sostenibilità, il progetto ambientale, l'eticità di un lavoro che sappiamo i trasporti incidono in maniera, in forte pressione sull'ambiente? L'intermodalità serve proprio a questo, ad abbattere e a rendere sostenibile ed ecologico il trasporto.